Quanta acqua bevi al giorno? Beh, almeno un litro e mezzo. No, non tanta. Di solito usi molti grassi in cucina? Meno possibile. Quasi solo olio extravergine d'oliva. Mi piace il cibo molto condito. Fai attività fisica? Sì, non ci rinuncio. Ho troppi impegni. A tavola mangi frutta e verdura? Irrinunciabili. A casa mia non le amiamo. Un consiglio a tavola? A tavola tutto ma non troppo. Un po' di attività fisica. E poi siamo in Italia. Dieta mediterranea. Mangia sano. Investi in salute. Info su salute.gob.it Grazie a tutti.